Nel giorno di Natale Andrea figlio di Stefano Taccone ha pubblicato sui social network un video in cui si vede il padre compiere alcuni passi il commento al video postato su tiktok è il più bel regalo di Natale le immagini mostrano l'ex numero uno ripreso di spalle sorretto e appoggiato a un deambulatore mentre percorre un tratto di corridoio l'ex portiere della Juventus era stato ricoverato in ospedale ad Alessandria lo scorso 23 aprile a causa di un'emorragia cerebrale poche ore prima era stato protagonista d'asti di un evento benefico dopo la stabilizzazione e alcune operazioni il recupero di Tacconi prosegue e ora è arrivata una bella notizia che lascia sperare soprattutto i familiari grazie a tutti grazie a tutti